Torna ad attaccare i ritardi della gestione della sanità nell'affrontare la seconda ondata di contagi da Covid-19 il sindaco di Forte dei Marmi ed ex primario ospedaliero Bruno Mursi. E lo fa al termine di un lungo intervento attraverso la sua pagina Facebook, dove afferma di non poter criticare totalmente le scelte contenute nel nuovo DCPM, perché, sottolinea, questa è una situazione che ci è sfuggita di mano e che molte delle decisioni messe in campo per tentare di arginarla sono anche frutto di quanto non è stato fatto in precedenza. Questa situazione particolare è certamente dovuta al fatto che una situazione che dovevamo aver controllato ci sta sfuggendo di mano e qui bisogna dire le cose come stanno esattamente. Io non credo che da un punto di vista tecnico le ASL, e parlo anche della regione toscana, ho letto l'ultima ordinanza del presidente Gianni che invita le ASL, cioè obbliga le ASL a trovare stanze per malati Covid che non debbano essere ricoverati in ospedale, che invita a fare il tracciamento, che fa una centrale unica di organizzazione. Queste sono cose che dovevano essere fatte 4 o 5 mesi fa. Dovevamo soprattutto fare un accordo ben chiaro con i medici di base per responsabilizzarli di più, ma anche eventualmente pagarli di più, perché no, perché facessero dei servizi ponendosi a disposizione della collettività, cose che invece non abbiamo fatto. Al termine dell'intervento, il primo cittadino afferma che l'amministrazione comunale del Forte dovrà studiare attentamente quanto contenuto nel nuovo documento del governo, soprattutto per poter programmare o annullare gli eventi in programma, primi tra tutti i tradizionali mercatini di Natale.